E volevo annunciarmi una cosa molto importante, se la noi abbiamo condiviso da queste esperienze, però adesso ne condivido un'altra molto importante, molto importante, ed è quello dei concetti che stavo preparando nei vari teatri, a Palermo, a Catania, a Napoli, per l'anno 13, quindi il concetto a Catania, ci sarà un grande concetto a Catania, per tutti i catanissi, che mancano da un po' di tempo, e sarà un mega concetto organizzato appunto da Daniele Temmartino e Dino Maletti insieme. Quindi facciamo un giocattro a Dino che è un grande e che venisce sempre a dare il meglio di sé, a dare il meglio di sé, faremo un'esperienza bellissima anche perché ci saranno degli ospiti molti internazionali, molti internazionali, però facciamelo intanto, andiamo con la nostra apparenza, e poi quello che succederà durante dei grandi concetti si dirà. Voi, Dino, io sono 15 giorni, ci teniamo grandi grandi a cantare una canzone che tu hai fatto con mio papà, con mio papà, e già sapete di chi sto parlando, forse, che ne va! A presto! 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 A presto!